Ciao ragazzi, questo filmato è per invitarvi a un evento, chiamiamolo più un flash mob, insomma un modo per stare insieme che ho pensato di organizzare anche per salutarci in vista delle prossime vacanze estive. Allora l'idea è questa, ci troveremmo il 25 luglio, è un sabato direi dalle 11 di mattina, facciamo dalle 10 e mezza, ci svegliamo con comodo, nell'area picnic che sta qua dietro di me. Dove si trova quest'area picnic? Intanto vedete scorrere delle immagini così vi fate un po' più un'idea. Si trova al Lago Maggiore, o meglio al Nuovo Lago Maggiore di Gagliate, facilissimo da raggiungere. Se uscite all'uscita dell'A4 chiamata Novara Est, seguite le indicazioni per Gagliate, dopodiché per Turbigo e appena prima di arrivare al ponte sul fiume Ticino, diciamo se attraversate il ponte ve ne accorgete perché è un ponte di ferro immenso, quindi 50 metri del ponte, prima di arrivare al ponte del Ticino, girate sulla sinistra dove c'è scritto appunto Nuovo Lago Maggiore. Dentro c'è un parcheggio, si paga 2 euro a testa a persona quindi per poter accedere all'area, ma poi dentro è tutto libero. Avete una struttura anche bar, quindi se volete avere dei rinfreschi non da portare da casa. È possibile portarsi la griglia da casa, perché non si possono fare fuochi per terra, però insomma con un grill si può fare tutto. Potete liberamente portarvi tavoli, sedie, altrimenti va benissimo avere una coperta da mettere per terra. Niente, all'insegna dello svaccarsi, stare insieme un po' al fresco e soprattutto portatevi dietro giochi da tavolo. L'idea è proprio fare un questo radduno di giocatori da tavolo all'aperto per salutarci prima dell'estate. Quindi io vi aspetto, se voi volete venire molto volentieri, ci siamo noi ragazzi di Gagliate, più quelli delle luce che vicine, il 25 luglio, ripeto, qui al nuovo Lago Maggiore di Gagliate. Quindi ciao e ci vediamo presto!